eccoci arrivati e al momento di parlare di quelle che sono le mansioni lavorative quindi dopo aver visto come caricare le schede anche sfruttando l'intelligenza artificiale adesso vedremo come poter gestire la parte delle mansioni mansioni prima di entrare nel merito ecco andiamo a vedere come caricare le mansioni quindi clicchiamo su sicurezza sul lavoro andiamo nella sede che stavamo gestendo quindi committente srl prova e andiamo nella sezione mansioni come vedevamo nel video precedente la schermata vuota anche in questo caso troviamo inizialmente la schermata vuota che possiamo andare a riempire cliccando sul tasto nuovo anche in questo caso si attiva l'intelligenza artificiale che in base al codice ATECO e alle schede caricate mi andrà a proporre certe mansioni piuttosto che altre chiaramente io scorrendole vedo un po' tutte le mansioni con un fattore di rilevanza che pian pianino si va a ridurre quindi prevedibilmente in alto troveremo le mansioni che abbiamo maggior probabilità si applichino al caso che stiamo gestendo ad esempio vediamo che al primo posto troviamo il receptionist d'albergo cosa dobbiamo fare? semplicemente cliccare su importa un po' come facevamo con le schede come al solito trovate che possiamo decidere la sorgente quindi scegliere dal catalogo di unsafe e dalle mansioni messe a disposizione dalla community oppure vedere le mansioni che abbiamo caricato nelle altre sedi aziendali anche in questo caso il sistema fa una verifica di rilevanza però andando partiamo da delle sedi già caricate quindi magari ci capita una mansione del tutto simile a una che abbiamo già trattato in un'altra azienda e possiamo recuperarla analogamente possiamo decidere di vedere o non vedere le mansioni create dagli altri utenti che hanno messo a disposizione le mansioni a catalogo della community possiamo vedere le mansioni già inserite sulla sede perché magari dobbiamo creare un duplicato oppure no per non sbagliarci e non caricare una mansione già caricata torniamo quindi al nostro catalogo e vediamo come caricare ipotizziamo ad esempio che il lavapiatti sia una delle mansioni che ci servono e quindi clicco su importa a questo punto il tasto si ingrigisce vuol dire che quella mansione è già stata caricata ed è pronta per essere elaborata facciamo così con le varie mansioni applicabili alla singola attività dopodiché andiamo su indietro come per le schede troviamo quindi all'interno delle mansioni le mansioni che abbiamo importato in precedenza come le schede una volta che la mansione è stata importata nell'azienda può essere tranquillamente modificata senza alcuna paura perché qualsiasi modifica porteremo a queste mansioni non avranno riflessi sulle mansioni a catalogo cosa si intende per mansioni però? mansioni non dobbiamo intendere attività lavorative quindi la mansione di caricare una macchina la mansione di scaricare una macchina ma vanno intese le mansioni come gruppo omogeneo per rischi parliamo quindi delle mansioni ad esempio che trovate all'interno della Uni Eniso 9612 2011 la norma sulla valutazione del rumore in quel caso le mansioni sono gruppi omogenei di lavoratori di persone che svolgono nell'arco della giornata gli stessi compiti dal punto di vista del rumore e così dobbiamo intendere anche le mansioni all'interno di Amsafe le mansioni non vanno intese quindi come attività lavorative ma come dei raggruppamenti di persone che dal punto di vista dei rischi ma anche dei dispositivi di protezione individuale della formazione delle visite mediche risultano omogenei questo elemento diventa molto importante per comprendere come mai a una persona possiamo agganciare una sola mansione perché quella persona appartiene a uno e un solo gruppo omogeneo all'interno poi della mansione invece andremo a definire quelle che sono le attività lavorative che svolgono coloro che appartengono a quel gruppo omogeneo ma entriamo nel merito clicchiamo due volte su addetto piani e troviamo la nostra schermata piuttosto complessa della mansione all'interno troviamo tutti gli elementi sia per la valutazione dei rischi fino a qui sia per l'ergonomia fino a qui vibrazioni, rumore e rischio chimico quindi all'interno di questo troviamo non solo la parte legata alla valutazione dei rischi ma anche i rischi specifici primo elemento il nome del gruppo omogeneo la descrizione dell'attività che svolge coloro che svolgono coloro che svolgono quella mansione specifica quindi una sorta di descrizione di quella che può essere una giornata tipo di chi appartiene a quel gruppo omogeneo comprese quelle attività anche occasionali abbiamo poi il livello di rischio per quanto riguarda la formazione specifica dei lavoratori se all'interno della sede noi possiamo definire un livello di rischio in questo caso andiamo a definirlo mansione per mansione ricordate che l'assegnazione non è determinata in maniera meccanica dal codice ATECO ma dalla valutazione dei rischi quindi in base alla scelta che io farò qui avrò come conseguenza che coloro che appartengono a quella mansione dovranno avere una formazione di quel livello possiamo anche andare a definire un numero minimo di addetti che svolgano quella mansione qualora abbia senso per voi ci possono essere delle mansioni che non richiedono la visita medica immaginate ad esempio un impiegato che svolge un'attività part time di 4 ore al giorno o 20 ore settimanali che dedotte le pause scendono sotto le 20 ore e quindi non sono soggetti a visita medica fleggando questo campo le persone collegate a questa mansione anche se non hanno la visita medica oppure questa visita medica è scaduta il sistema non segnerà un errore qualora una mansione non venga più svolta ma volete tenerla da qualche parte potete cliccare su obsoleto e quindi rimarrà lì pronta se dovesse tornare la necessità le mansioni obsolete sostanzialmente non compaeranno nella valutazione rischi le mansioni avranno una serie di rischi alcuni sono i cosiddetti rischi normati cioè quelli per i quali esiste un sistema di determinazione di un determinato livello di rischio e altre che invece non lo sono quindi questa pagina è dedicata a tutti quei rischi che hanno dei processi specifici di valutazione che ci portano a dare dei risultati per esempio nella parte ergonomica vedete che abbiamo sollevamento sollevamento e trasporto train e spinta compiti ripetitivi e posture qui potete scegliere la fascia di appartenenza che vada non presente occasionale verde, giallo, arancio, rosso o viola non quantificabile cioè il rischio è sicuramente presente ma non riusciamo a quantificarlo oppure personalizzato se mettete personalizzato potete andare a scrivere voi il testo da inserire poi nel DVR qualora per fare la valutazione ad esempio ergonomica abbiate utilizzato sempre Amsafe questi valori vengono automaticamente assegnati dal software se invece non avete usato Amsafe potete personalizzarli stessa cosa per le ore dei videoterminali lo stress il rumore il rumore vedete che ci sono dei valori preimpostati perché parliamo di un addetto piani quindi addetto alle pulizie quindi non ha un'esposizione al rumore qualora invece abbiate fatto la valutazione potete mettere qui il valore riscontrato se avete usato Amsafe questi dati vengono messi in automatico abbiamo anche la possibilità di assegnare un'elevata variabilità oppure no l'impulsivo è infine gli ototossici uguale le vibrazioni campi elettromagnetici presenti o non presenti radiazioni ottiche presente o non presente chimico stessa cosa quindi se non ho fatto la valutazione del rischio con Amsafe posso scegliere il valore altrimenti Amsafe imposta automaticamente il valore amianto non c'è sebbene esista una metodica per determinare più che altro lo stato dei manufatti non esiste una metodica per indicare un indice di rischio quindi qui c'è uno spazio libero dove andrete a indicare se all'interno della struttura ci sono materiali contenenti amianto o meno gli agenti cancerogeni e gli agenti biologici passiamo quindi alle differenze quindi differenze di genere maschi e femmine differenze di età giovani, adulti, anziani differenze di provenienza e differenza di tipologia contrattuale quindi nulla di diverso da quello che richiede l'articolo 28 quali sono le differenze? tra maschi e femmine abbiamo degli effetti effettivamente maggiori su ad esempio rischio chimico, rischio biologico sui maschi abbiamo una propensione maggiore a infortunarsi i giovani hanno magari una scarsa consapevolezza dei rischi gli anziani possono avere un'eccessiva confidenza provenienza può portare con sé dei problemi di comunicazione, formazione ma anche di predisposizione e cultura dedicata di propensione diciamo alla sicurezza e infine la tipologia contrattuale questo elemento diventa molto importante soprattutto quando abbiamo dei contratti atipici ricordate che tutti i contratti a termine sono ammissibili solo qualora all'interno della valutazione dei rischi vengano considerati i rischi specifici di quella tipologia contrattuale trovate anche una circolare dedicata proprio al lavoro intermittente il DVR qualora quindi qui non compiliate o compiliate in maniera non coerente con quelli che sono le tipologie contrattuali applicate in azienda il rischio è che quel contratto a tempo non sia valido e quindi il lavoratore passi automaticamente a tempo indeterminato quindi è un elemento da considerare con particolare attenzione gravidanze minori qui potete andare a descrivere quelli che sono i rischi connessi al periodo pre-parto post-parto definire qual è il periodo di interdizione e se la mansione è vietata per i minori o meno ricordo che questo e parliamo pre-parto post-parto del decreto legislativo 151-2001 che prevede per primo l'eventuale censimento di condizioni e attività vietate durante la gravidanza e nel puerferio qualora un'attività fosse vietata durante la gravidanza o quell'attività può essere rimossa dalla mansione senza inficiarne lo svolgimento altrimenti bisogna fare un cambio di mansione o se questo non è possibile l'astensione obbligatoria anticipata e stessa cosa nel post-parto qualora una mansione non possa essere svolta nel pre-parto e o nel post-parto la valutazione termina con l'indicazione di cambiare mansione o richiedere l'astensione se invece una mansione può essere svolta durante la gravidanza durante il puerferio dovete verificare i vari elementi di valutazione del rischio specifico per quel periodo anche questi introdotti all'interno del decreto esattivo 151 similmente per i minori il primo passo da fare è verificare che la mansione non preveda attività vietate per i minori se questo non è il caso in questo caso si procede a una valutazione di dettaglio fatto tutto questo non dimenticate di cliccare applica andiamo poi al contenuti del modulo specifico dove possiamo andare a fleggare quelli che sono gli argomenti in base ai rischi di esposizione che vanno trattati nella specifica l'idea è quella di stampando la scheda mansione legata al dvr darla al docente per indicargli quali argomenti trattare e quali invece lasciar perdere veniamo a una delle ultime modifiche inserite che è l'individuazione dei rischi prima di tutto segnaliamo che qualora non compiliate questa parte semplicemente la sezione non verrà stampata quindi se non avete intenzione di utilizzare questa parte nessun problema la saltate a pie pari e sistemano la stampa tuttavia vi invito a ragionare su questa sezione con particolare attenzione cosa serve? qui all'interno di questa tabella noi abbiamo direi tutti i rischi potenziali che possiamo incontrare nei luoghi di lavoro per ognuno di questi andremo a indicare se è non applicabile quindi il rischio non è questo rischio non è presente non non rientra nella mansione lavorativa e quindi non verrà più trattato sostanzialmente oppure è presente ma viene valutato a livello qualitativo quindi all'interno ad esempio delle schede attività ambiente di lavoro attrezzature oppure se è un rischio che abbiamo valutato con una relazione tecnica specifica se volete potete aggiungere anche delle note e per chi volesse aggiungere anche un valore di P e D questo elemento nasce su richiesta di alcuni utenti che avevano bisogno di un report che in qualche modo in maniera sintetica riassumesse quelli che erano i rischi di mansione e il loro livello ripeto qualora invece questa parte non vi interessi è sufficiente non compilare P e D e non stampare quello che è un allegato specifico questa parte cosa serve serve a dare evidenza di aver considerato tutti i rischi quindi anche quelli non applicabili che di per sé non avrebbe senso però sappiamo che a volte qualcuno contesta il fatto che non riusciamo a dimostrare di non aver considerato i rischi non applicabili perché effettivamente non li abbiamo del tutto considerati quindi può essere un buon sistema come dire per mettere a tacere anche queste polemiche e serve anche da verifica perché io ho caricato le schede ma magari percorrendo scorrendo l'elenco rischi mi trovo dei rischi che ritengo essere presenti ma che in realtà non ho inserito da nessuna parte quindi ripenso alle mie schede e eventualmente mi ricordo mi rendo conto che devo aggiungere dei rischi a delle schede oppure devo aggiungere proprio delle schede ex novo andiamo avanti abbiamo poi le competenze richieste qui possiamo andare ad aggiungere quelle che sono le mans quelle attività che richiedono una specifica formazione o abilitazione addestramento quello che è come richiede proprio l'articolo 28 che riporta tra i contenuti obbligatori del DVR le mansioni che espongono i lavoratori rischi specifici e richiedono competenze abilitazione o formazioni particolari potete anche definire ma questo è a un livello gestionale dei documenti richiesti per coloro che svolgono quella mansione ma non riguarda tanto il DVR abbiamo poi la sorveglianza sanitaria ovvero i rischi prevedibili per i quali chi svolge questa mansione viene visitato chiaramente questo è un lavoro che va fatto a quattro mani insieme al medico competente analizzando quello che è il protocollo sanitario però le due cose insieme possono dialogare c'è anche poi la stampa di un report specifico dove per ogni mansione ci sono i rischi da visita medica quindi un report che diventa perfetto proprio per confrontare quello che è il DVR col protocollo sanitario facendo questo creiamo quella congiunzione che permette da un lato di avere una coerenza dall'altro anche di avere una verifica quindi come mai quel lavoratore che a me risulta fare quella mansione fa anche l'alcol test indagando col medico competente scopriamo che quella persona occasionalmente viene assegnata anche a ad esempio lavori in altezza adesso lo so e quindi quell'assenza di quella rischio da visita medica ha innescato un'indagine una verifica una sorta di prova del 9 l'ultima parte della mansione che però è quella più importante è l'assegnazione schede all'interno di questa schermata trovate tutte le schede che sono state caricate all'interno di quella sede lavorativa chiaramente all'interno della mia azienda posso avere tantissime schede ambienti di lavoro attrezzature attività che sono applicabili ad alcune mansioni e non a tutte per questo motivo io andrò a mettere un flag a quelle che sono le schede applicabili per esempio in questo caso abbiamo un addetto piani che quindi si reca nelle camere sali e parti comuni per fare le pulizie per quanto tempo praticamente tutto in cucina no magari questo in cucina non ci va in reception si ci passa per pulire beh allora possiamo anche mettere 10 e magari abbassare a 90 quello che è gli altri questo perché sulla parte ambienti effettivamente possiamo anche fare una stima che venga al 100% anche se non è tanto quello l'importante potrebbe essere che va anche in sala ristorante a pulire o meno che pulisce anche le scale interne quindi mettiamo un altro 10 e scendiamo ancora cosa serve questa esposizione anche per dare il giusto peso a quanto entrare nel merito di queste percentuali quando stampiamo il documento di valutazione dei rischi in particolare le schede mansione troviamo che per ogni mansione viene riportato più specchietti di collegamento alle schede dove ho i rischi di quella scheda P D ed eventualmente E esposizione a cosa si applica però questa esposizione solo ai rischi per la salute nel caso dei rischi per la sicurezza R rischio è dato semplicemente dal prodotto P per D perché effettivamente che io un qualcosa lo usi tanto lo usi poco non so bene come questa esposizione influenzi il rischio per esempio uno potrebbe dire ma sai più tempo usi un coltello maggiore è la probabilità che tu ti faccia male ed è effettivamente vero però è anche vero che chi lo usa poco potrebbe anche essere poco esperto e quindi aumentare la probabilità di farsi male però è vero anche il contrario uno che lo usa tanto potrebbe diventare troppo sicuro di sé e quindi farsi male tradotto nel caso dei rischi per la sicurezza noi non sappiamo se l'esposizione determina un aumento o una diminuzione del rischio risultato gli assegniamo come se fosse esposizione 100% P per D nudo e crudo per quanto riguarda invece i rischi per la salute pensate i rumori alle vibrazioni microclima invece l'esposizione è nettamente influenzante il rischio posso essere esposto a rumori molto forti chiaramente non superiori ai 130 decibel di picco ponderato C perché a quel punto ho un problema di superamento del valore di soglia di picco ma ipotizziamo dei rumori intorno a anche 90 decibel però se faccio quell'attività pochi minuti a settimana io sordo non lo divento non è possibile che io sia in gamba o meno non divento sordo quindi l'esposizione influenza direttamente il rischio quindi nel caso dei rischi per la salute R sarà dato da P per D moltiplicato anzi demoltiplicato per l'esposizione percentuale quindi se ho probabilità 2 danno 2 esposizione 80 il rischio sarà 2 per 2 4 per 0,8 3,2 quindi ho una riduzione del rischio considerando il tempo di esposizione dopodiché dopo aver fatto gli ambienti di lavoro e qui se volete se vi fa piacere potete effettivamente andare a definire un 100% bisogna andare sulle attrezzature quindi sicuramente l'aspirapolvere prevedibilmente un 20% magari movimentazione di materiale un 10% pulizia dei locali tranquillamente l'80% rapporto con i clienti ma in parte 5% perché il rapporto con i clienti può essere importante anche se è molto basso perché qui abbiamo tutto il tema del rischio di aggressione quindi ci sta assegnare questa scheda per poter poi assegnare al lavoratore anche quel rischio fatto questo la nostra mansione è terminata chiaramente ci sono tutti i rischi specifici ma questo come dire riguarda un altro percorso a questo punto possiamo fare salva e come viene fuori la nostra scheda mansione sebbene ci siano tutti dei campi che non abbiamo compilato lo possiamo vedere qui nelle schede mansione cliccando qua fuori possiamo generare tutte le schede ma possiamo anche generare la singola scheda mansione la singola scheda mansione si presenta in questo modo quindi abbiamo la descrizione l'elenco delle attrezzature che ha il sistema automaticamente vedendo le schede assegnate alla mansione vede quali sono le attrezzature di quelle schede e le inserisce qui non abbiamo inserito agenti chimici quindi lui non me li propone se avessi fatto la valutazione del rischio chimico con unsafe qua troverei l'elenco degli agenti chimici collegati abbiamo la ricognizione dei rischi con quello che vi ho fatto vedere prima ci sono solo quelli che gli ho dato un valore se non ho dato un valore lui non me li propone neanche quindi scegliete voi anche se dei rischi non considerarli proprio i rischi normati articolo 28,3 le sostanze gli agenti biologici i gruppi di lavoratori omogenei articolo 28,1 quindi le differenze di genere età provenienza e tipologia contrattuale lavoratrici gravidanza e puerpere tutto il discorso del parto pre postparto lavoratori minorenni i dpi necessari poi la prossimo video entreremo proprio nel merito la formazione richiesta tra cui i contenuti del modulo specifico i rischi da visita medica quindi articolo 41 e infine ecco le schede di valutazione quindi lui ripropone quello che sono le schede di valutazione non riproponendo tutta la descrizione quella va nel capitolo precedente ma solo il titolo l'esposizione PDR come vedete molti sono un semplice P per D comfort microclimatico vedete che ha un asterisco ed è 2 per 1 per 80% 1,60 l'asterisco vediamo poi al fondo della scheda indica sostanzialmente che questo valore è una stima finalizzata semplicemente a dare una priorità di intervento il vero valore di rischio per questi è determinato dalle metodiche specifiche concludiamo la parte delle mansioni con un altro report molto importante da considerare che sono i fascicoli informativi quindi da qui potete generare il fascicolo informativo e vedere ad esempio per questo per la mansione addetto piani è un fascicolo realizzato ai sensi dell'articolo 36 qua abbiamo una parte introduttiva le definizioni la normativa costituzione codice civile codice penale gli obblighi dei lavoratori la gestione a sicurezza in questo caso non abbiamo definito i ruoli se no qui trovereste il datore di lavoro col suo nome e i suoi obblighi l'RSPP col suo nome e i suoi obblighi l'RLS gli incaricati antincendio preposti dirigenti di ognuno oltre ai nomi derivati direttamente dal gestionale anche quelli che sono gli obblighi inerenti poi abbiamo sui rischi specifici quindi incendio emergenze abbiamo tutta la parte ecco la chiamata il rischio chimico ecco al fondo ad esempio del rischio chimico in questo caso non abbiamo fatto la valutazione se no qui trovereste quello che è il risultato della valutazione del rischio chimico per quella mansione quindi questo fascicolo diventa personalizzato per quella mansione stessa cosa per il rischio biologico vedete che qui riporta quello che è il testo del rischio biologico che abbiamo inserito nel dvr e c'è un'assoluta sovrapposizione i rischi da sorveglianza sanitaria rumore vibrazioni tutti quegli elementi che abbiamo valutato infine l'ultimo elemento ma forse il più importante per ogni scheda collegata alla mansione noi abbiamo una scheda procedura dove abbiamo i rischi connessi a quella scheda che sia un ambiente di lavoro un'attrezzatura una fase lavorativa le cose da fare o le cose da non fare questo fascicolo si stampa si consegna al lavoratore e si certifica la consegna con la firma un'altra modalità è attraverso la app per lavoratore di Amsafe che permette a ogni lavoratore di accedere al proprio fascicolo informativo in qualsiasi momento di Amsafe